Il programma che state per vedere contiene linguaggio volgare e riferimenti sessuali espliciti. Visto che è la nostra ultima notte, che cosa ne dite se dormiamo tutti insieme nel salotto di sopra? Stai di coccole. Tutti vicini. Mi avviglierò qualcuno stanotte. Coccoliamoci. L'idea del pigiama party mi piace. Voglio passare l'ultima notte vicino ai miei amici. Ma non c'è posto per me. Nilly, devi stare con me. Dormiamo accanto ogni notte. Prendi il materasso. Perché non vi mettete abbracciate? Siamo amiche di passerina, non lesbiche. Sai che cosa vuol dire il nostro gesto? No. Ehi, Emy, guarda. Amiche di passerina. Sì, quello è il nostro gesto. No, è così. Le tue gambe e quelle di Nilsa. Pensavo fosse il nostro gesto speciale. Il gesto delle migliori amiche non lo sapevo, ragazzi. Siamo sinceri. Non significa migliori amiche. Lo facciamo sempre nel confessionale. Amiche di passerina. Amiche di passerina. Ma dai. La regina hawaiana è arrivata. Lasciatemi dormire. Oh, Dio. Non credo ai miei occhi. Santo cielo. Oh, no. Ehi, è l'ultima sera. Credevate che non avessi sorprese. No. Oh, che paura. Vi ricorderete tutti del mio sedere. Sembra il giuramento di fedeltà alla bambiera. Mi mancherete, b******o. No. Ehi, è l'ultima sera.